Ascoltate le parole di Dio, tutti gli abitanti di questa terra, ravvediti Roma, avete ammazzato gli profeti, e siete andati dietro ad altri Dei, ravvediti Papa Francesco, tu che ti hai accumulato ricchezze, e che hai fatto, eh? Versato sangue, you know what has taken place in the darkness and in the shadows, tu lo sai benissimo quello che è passato dietro lì nelle tenebre e nelle ombre, c'è solo un Dio, and there is only one way to God, e c'è solo una via per arrivare a Dio, non si può unificare il mondo in una religione, perché c'è solo una via alla vita eterna, e il suo nome è Gesù Cristo, e non ci può essere compromessi, repent and seek Jesus, ravvediti e cercate Gesù, cercate il Signore mentre ancora può essere trovato, chiamatelo mentre ancora può essere cercato, trovato, ravvedetevi per l'idolatria, rituali religiosi, e dottrine degli uomini, stiamo cercando, andiamo sempre a cose che sono state fatte con le mani dell'uomo, cerciamo di creare imperi, ma la parola di Dio dice che il regno di Dio non è in questo mondo, come mai trasgressiamo i mandamenti di Dio con la volontà delle parole di Dio, Gesù Cristo è re, Roma è ora di ravvedirsi e tornare al tuo creatore, non si può mischiare le cose di Dio con le cose profane di questo mondo, il nostro Dio è un Dio santo, e si merita tutta la gloria e la moglie, Gesù Cristo ti vuole bene, ti amo, ma abbiamo bisogno di più vita, di più luce, serve più vita, mettete per terra le vostre tradizioni, camminate con lo Spirito di Dio, e la sua potenza ti alzerà, la parola di Dio dice, che l'amicizia con il mondo è contro, non lodiamo le cose fatte con le mani dell'uomo contro Dio, non lodare cose fatte di legno, ma glorificate e lodate il Signore che ha fatto il cielo e la terra, la Bibbia dice, che nelle sue mani, ci sono le anime di ogni cosa, e il rispiro di ogni uomo, di questa normalità, Gesù Cristo ti sta tornando di qua, e tornerà dalle nuvole, confessate con la bocca che è il Signore, e credete nel vostro cuore che Dio lo ha ressuscitato da noi, e tornerete salvati, Roma è ora di ravvedersi, ravvedetevi per i vostri peccati, piangete davanti al Signore, ti darà la grazia, l'amore di Dio è per tutti, e non ci sono altre vie per arrivare a Dio, tranne la via che è solo Gesù, non ci sono altre vie per la vita eterna, Gesù è Re, e è il Re dei Re, il Signore dei Signori, non mischiamo più le cose profane con le cose sante, c'è un solo Padre, e preghiamo al Padre che è lì nei Cieli, glorificato è il Suo nome, e il Suo Regno venga, e la Tua volontà sia fatta, in Cielo come qui sulla terra, e ci darà il Suo panico quotidiano, e ci perdonerà per le nostre trascinzioni, come noi, perdoniamo chi ci ha fatto del male, non vi appoggiate con la vostra sapienza umana, ma mettete la vostra fiducia, in uno, solo uno, e chi prende pure la vita, che la porta pure via, Do you know Him? He's coming back! Repent Rome! Now is the time! The Kingdom of God has come near to you today! Choose this day who you will serve! In Jesus' name! Nel nome di Gesù!